Bene amici, buongiorno e oggi si parte con una nuova rubrica. Vediamo assieme tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali così da partire sin di primo mattino con un'idea di quelle che saranno le principali novità della giornata, almeno per quello che riguarda le prime pagine di tutti i giornaloni nazionali. Fatemi sapere con un bel like, l'iscrizione, il campanone, se un contenuto di questo genere insomma può essere interessante da portare avanti. Adesso cominciamo subito, è la prima volta anche per me quindi perdonerete qualche imbarazzo iniziale prima di prendere il ritmo, partiamo, sigla, io sono Mr. Lull. E partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera di quest'oggi, primo febbraio. Allora come vedete il titolo principale è Fondi UE Draghi spinge i ministri, sì perché dopo la parentesi Curina Lizia il governo dei migliori è tornato al lavoro con un consiglio dei ministri di ieri, ne parliamo tra poco di quello che ha deciso, è Draghi che spinge i ministri per portare avanti tutti i progetti del PNRR. Il premier chiede un cronoprogramma scritto entro due giorni e ringrazia Mattarella per il sì soddisfazione per il PIL dell'Italia che cresce fino a oltre il 6,5% su base anno e poi tutte le liti nel centrodestra, Meloni, Salvini, Berlusconi e poi vabbè ci sono anche coltellate all'interno dei 5 stelle, si apre anche Sanremo sul sipario con il traino di Fiorello e poi abbiamo anche il partito repubblicano, Salvini va ad Arcore per federare il centrodestra, Zacchi ritorna a dare anche esami all'università. Ma eccoci con la prima pagina della Repubblica, è tornato Draghi, titola in caratteri cubitali, il premier detta le scadenze ai ministri, le scadenze del piano nazionale di resilienza, invita i ministri a presentare piani aggiornati per riuscire a incassare insomma i soldoni dell'Europa. Salvini lancia appunto la federazione col partito repubblicano di centrodestra, resa dei conti anche all'interno delle 5 stelle di Maio versus Conte e poi quello che è stato deciso ieri dal consiglio dei ministri. Covid ancora 10 giorni di divieti però a marzo, si spera, andrà a finire quello che è lo stato di emergenza. A centro pagina Patrick Zacchi, amo l'Italia ma lotterò per i diritti dell'Egitto. Passiamo alla stampa, sempre i recovery in primo piano, la svolta di Draghi, questa accelerata per incassare i soldoni europei, sempre Zacchi, mascherine all'aperto per altri 10 giorni ma anche qui viene confermato il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Tornano anche gli iscritti alla maturità, finalmente si riparte con un certo grado di normalità, Conte versus Di Maio, avrete anche letto di Twitter bombing. Passiamo a Libero, dopo invece il tema principale è c'eravamo tanto alleati, quindi la situazione proprio di accoltellamenti nel centro-destra. Salvini ha la guerra contro Giorgia, Giorgia Meloni, Salvini che va ad Arcore e vede il CAV, Berlusconi il Cavaliere e propone di federare il centro-destra come una federazione appunto repubblicana, senza estremismi legati a ideologie sconfitte dalla storia. La Meloni è molto arrabbiata, gesti folli della Lega, insomma sapete che c'è stata qualche piccolissima incomprensione durante la settimana che ha portato alla rielezione di Mattarella, il Movimento 5 Stelle non se la passa meglio, M5S a pezzi, parte la campagna per cacciare Di Maio. E poi, consiglio dei ministri sempre di ieri, si aspettano altri dieci giorni per allentare le misure. Covid, Draghi non ha il coraggio di levare ancora i divieti, lo stato di emergenza finirà il 31 marzo, ce lo confermano insomma, un po' tutti. E passiamo al giornale, centro, non centro-destra, Berlusconi svolta tentazione del Cavaliere deluso percorrere la strada della centralità che tutti riconoscono e rincorrono in Forza Italia, però con Salvini appunto resta uno spiraglio di collaborazione, alleanza. La Gelmini infatti dice che la Lega ora è più vicina all'UE, all'Unione Europea, mentre Fratelli d'Italia ha pensato ai voti, quindi una critica pesante verso Giorgia Meloni. Passiamo al Fatto Quotidiano che invece è un po' più critico su quella che l'azione di governo, si parla di un Consiglio dei Ministri gelido e durato tra l'altro soltanto una mezz'oretta, praticamente Draghi ha dato i compiti a casa per portare avanti i PNRR, i progetti del PNRR, un Consiglio dei Ministri che in mezz'ora ha semplicemente prorogato, diciamo, restrizioni e chiusure per ulteriori dieci giorni rimandando le decisioni quelle importanti. Basta bugie all'interno del Movimento 5 Stelle, ecco chi ha stoppato la candidatura, di Belloni, prima donna che sarebbe dovuta diventare Presidente della Repubblica, l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD che dovrebbe andare avanti nonostante gli accadimenti del Quirinale. Eccoci con la verità di Belpietro, il mondo apre, noi stamattina invece siamo ancora tutti chiusi in vigore, ancora le regole che la verità definisce regole da matti, mascherine ancora per dieci giorni, chiusure per esempio per le discoteche ancora per dieci giorni e poi c'è San Valentino, quindi insomma si pensa che per metà mese ci sarà questo allentamento per consentire la ripresa delle attività. C'è poi il pezzo di Belpietro, Draghi è ammaccato, la seconda dose al Colle, quindi il secondo mandato di Mattarella, provoca effetti collaterali, sì perché le scorie nei partiti sono tante, qualcuno vorrebbe un rimpasto all'interno del governo e ci sono preoccupazioni sul fatto che l'azione di governo possa sicuramente risentirne, qui siamo nelle mani di Draghi. Passiamo al tempo, quotidiano indipendente, clamorosa indagine della Guardia di Finanza, quindi qui non si parte con Draghi, PNRR, Consigli dei Ministri, ma indagine della Guardia di Finanza e dei PM di Rimini, maxi truffa sui bonus di Conte. Il Covid ci ha resi ricchi, avrete sentito le intercettazioni, non pensavamo fosse così facile, insomma qualcuno pare si sia intascato, 440 milioni di euro, pizzicati 78 fra imprenditori, commercialisti, criminali che avevano avuto, insomma avevano approfittato degli aiuti edilizi. Chiudiamo con il sole 24 ore, nel 2021, ovviamente qui si parte con questa notizia di rilevanza principale per il quotidiano economico, nel 2021 gran rimbalzo del PIL, più 6,5, 6 imprese su 10 a caccia di addetti, quindi insomma pare che il mercato del lavoro sia in fermento. Per Draghi risultato è frutto delle scelte del governo, ma va e della crescita in generale internazionale. Poi anche qui bonus per l'edilizia, rischiano di sfumare 2 miliardi di illeciti, e si parla di quei 440 milioni che vedevamo prima dell'inchiesta della Guardia di Finanza. Detto questo abbiamo fatto un'ampia panoramica, fatemi sapere magari se c'è qualche altro quotidiano di cui vi farebbe piacere vedere la prima pagina di prima mattina, per esempio Italia Oggi, che oggi non ce l'abbiamo fatta, se la rubrica vi pare che possa essere utile o sia stata comunque interessante, fatemelo sapere con un bel like, l'iscrizione, il campanone, e l'abbonamentone se volete aiutare il canale. Ci vediamo alla prossima, grazie da MrLul.